Ciao, ok, ho fatto una promessa ieri, stavo parlando del fatto che io voglio fare molto più allenamenti con voi di Super Jump direttamente in casa perché dai dati Istat solo 6% degli italiani vanno in palestra ma 94% ovviamente non si va perché comunque l'adduzione è quello allora io vorrei allenare tutti quelli che non vanno in palestra, ok? e per fare questo però avrete bisogno di uno di quelli, ok? E quello è il mio mitico Super Jump trampolino che lo trovi su cosport.com prendetelo, ok? C'è 111? E il carbone c'è ancora 115? No. Ok, un momento, non c'è 115 ma c'è 122, 122 è il non plus utero ragazzi lo so che costicchia un po' di più ma vale la pena perché è veramente top. Io perché ce l'ho le 115 qui ho le 111 qui, scusate perché mi sto provando di inquadrare, non è facilissimo di inquadrare, spingo il trampolino indietro ma io, il mio problema è che io qui ho poco banda, poco banda di, come si chiama, di internet avendo poco banda di internet mi faccio fatica di uploadare tutti i miei video, quelli professional, quelli fatto molto molto ganzi così io provo di inquadrarmi, vediamo se riusciamo a inquadrarci, fare una bella inquadratura vediamo se ci vediamo. Riuscite a vedermi? Riuscite a vedermi? Spesso mi sto spostando, questo è tutto in tempo reale ragazzi stiamo facendo in tempo reale, una bella allenamento insieme, Super Jump ricordate che dovete assolutamente iscrivervi sul mio canale YouTube Jill Cooper Super Jump, Jill Cooper Forza Naturale e io una volta a settimana comincerò a fare un'ora di Super Jump con voi così potete avere la palestra veramente in casa io sarò la vostra personal, personal, personal trainer proprio direttamente su internet però adesso per mantenere il mio promesso diciamo dato, il mio promesso dato cominciamo a fare un po' di Super Jump insieme, una lezione di Originology ok, faremo un bel 30 minuti che poi dopo io devo scappare devo andare a un appuntamento però meglio 30 minuti più sono libero cosa? sei libero, vado solo io mi sta dicendo Carbone che va solo lui ma io voglio venire con te, perché non posso andare? perché ti è niente perché non mi vuoi? no, assolutamente mio marito non mi vuole con lui vuol dire che c'ha, non lo so un Uma Uma che vinta, già sta provando di liquidare e come che ci dobbiamo allenare? perché altrimenti il marito trova uno migliore devo stare attenta allora, cominciamo a mettere un po' di musica un po' di Super Jump e facciamo il nostro allenamento insieme ok e dopodiché ammazza che super ok e dopodiché ragazzi continuo a spingere e poi 3 2 chiudo bingo ok come se la musica è bella veloce 4 3 2 andiamo jumping jumping off e più di più e dopo poi la metterò questo è proprio su YouTube ok ragazzi quindi potete riprenderlo ok ci siamo scegliamo il 4 4 4 chiudo chiudo scami ative ancora più di più andrõ riprendiamo su 2 2 2 2 2 2 Quattro, tre Da un singolo, singolo Oh Yeah, ancora Oh, three, two Back double, double Double, ora Single, da un singolo Ok, schi Destra Cambio, cambio Cambio, cambio Up, go Cambio, cambio Quattro Quattro Cinco, let's go Quattro, quatro Quattro, cinco Oh, three, two Andiamo su twist Alto, spingo Cambio, alto Spingo Alto Cambio, go Cuattro Cambio Cambio Do it Cambio, do it Do it Cinco, dos Cinco Bravo, let's go Double, double Double, single, dance Ancora Ok, are you ready? Settricali Ok, andiamo con le bracco Stop Destra Sinistra Su Su Giro Oh yeah Sinistra Sinistra Five Su Su Settricali Two Due Tre Ritmo Vado, vado Alto Gino Sinistra Up Occhio Andiamo Quattro Tre Due E Rimango Ok Sinistra Andiamo Vado Scendo Yeah Oh yeah Scendo Dari quattro Quattro Tre Due Rimango Jump Dattato Go Scendo Yeah Passo Quattro Tre Tre Grazie Giro E Altro Braccio Up E Settricali Capo Quattro Go Three Two Giro One Up Ski Stira Molto Usa le gatti Poco giù Ricordate Per non armi Con me Avete bisogno Di questo Frappogino Ok Andate su Pulse 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 Quattro Four Three Two Four Ancora Four Vedete Corpo di giro Due 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 E mi simboli Ok Are you ready? Andi montiamo in armi Facciamo Doppio 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 Simboli Giro Di giro Uffa Pelle gambe Da Due Così Anche se non potete andare in palestra Potete fare super job Direttamente con la sottoscritta Su mio canale Ok Youtube Andiamo Ancora 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 Due 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 E giriamo centro Ok Come sta andando ragazzi? Bene Pompi giù Ok Vediamo che la musica si ricomincia Non ti preoccupare Ok Questa è la bella della diretta Ve lo ho promesso di fare super jump insieme E quest'anno 2018 Il dieci anniversario di super jump Sarà dedicato a voi Chi vuole fare Con me Vi ritrovi in casa Ok Quattro Quattro Tre Due Fulta per la gamba Gira 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 Alto braccio Then apro Hup Hup Generale giunta Hup Yeah Yeah Senta più che facciamo Dei nostri E dei miei di super jump Aprende i miei di super jump Yeah Pull up Ready Two And ski Double 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 Hemp jump Let's go Vai Pomp it guys Pomp it Yeah Yeah Io sono così anche normale Mi incontro l'organizzo È vero Lo so Salto uomo Dai Double 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 Yado And come una volta Double 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 Let's go Ok Poi Mentre qua Laterale Uno Due Pomp it Pomp it Pomp it Uno Due Pomp it Pomp it Ok Guarda Bracca Banti Banti Cibito 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 Allora, are you ready? Let's go, and now Bop bop, ok Bop bop, ok Check it out Ok To the back half are you ready? Go And now Vosso, more Up, up Get up Push, push, push And now Up, take it out Go, and after After, take it out Go, go, go Three, two And you go, whoo Yeah Speed double Four, three, two And you go, go Yeah Back Back to doubles 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 Travel Four, three Back to doubles Let's go guys Double, double, double Travel Four, three Vosso Put it out there Punch 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 There you go Are you ready? Sit here, double, double Double Up, up, up Up, up Ship right up Double Up, up, up Hey Hey Let's do the game Up, up Up, up Up, up Up, up Up Down Up Up Up, up Back Jumping down Allora, let's go, jump and push, and close, ready? Come on guys, come on, up, 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 to the braccia, and push, you ready? Quasera, quasera, four, three, two, one, and push, hold, hold, yep, take it down to two, double, 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 single after single, okay, front, double, 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 and we're going to turn to right, single, stay here, stay here, back to double, 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 turn, 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 right, double, 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 turn, go, 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 and double, double, back to the center, back to the center, and four, three, two, and one, Allora, ok, how's it going guys? Now I want you to remember that I'm an inventor Superjunk, I did it 10 years ago, I modified the rebounder, che vuol dire il trampolino dove sto saltando non ha niente a che fare, quindi altro tempo che il supertatto. E se volete saltare con me, necessite vedere un trampolino performante, sono la prima che al momento comunica docente, riconosciuto da Pony, per insegnare il trampolino elastico, così se volete anche voi diventare un insegnante di Superjunk, basta scriverci su un po' di giocciola con il superjunk, per gli altri che non vogliono diventare gli insegnanti, ma volete saltare a casa, basta prendere il trampolino, dopo il superjunk, dove sto bene. Da capo, go, and take it down, go, take it down, go, and pop, and pop, and pop, and turn it, gira, 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 l'altro braccio, go, oh come mi sento, crocchio liberate le tussine, perché sto liberando il mio risciardo linfatico, due, tre, gira, yeah, da pello, posso direggio devi UK, un punto invece più lungo, 강raRLhonelo40atore, do pergi bacco, lo soprattutto la cia, guardaicialità nada, 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 nada da tá che con Abbonato, Badomato, 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 Bogyaba Tomato Gira al chat, 2, 1, 2, double, down, down, double, down, 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 and out, back, shake it out, go, go, double, energy, double, energy, now this is la cosa che tu cannot, non puoi fare questa terra, sta grissima di genocchio, ma non puoi fare questa lastica, pa, 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 are we there? Come on, back center, jumping jack, double, up and double, use the leg, use the leg, stop, let the squat, double, pull, 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 double, and gira, pull, up and move, double, pull, 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 gira, 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 up and move, up, down, 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 down E così liberatore, super job Yeah Just in a capo, you ready? Go, go! I'm going to go Brasso, four, three, two Are you ready? Let's go! Three, cambio Up Quattro, quattro, tre, due Gina, tutto le gato, tutto le gato Due, 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 due Viazzo, vado, vado, vado Due, 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 due Viazzo, four, three, two Due, continuo, due, due, due Viazzo, vado, 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 vado Two, are you ready? Due, due Musi polegate, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8 Non saltare, ok? Due, bam, bam And bravo, one, and you go Five, single, two, five Single, two, action You know, let's do that again Acuna da volta Due, bam, bam, due One more dance Una, oh, oh, una, oh, oh Ok, inizio di parlare in inglese Vedi che canti mi stanno già scrivendo Da Nord-America, questo super jump Atom, chiuso Dove, 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 dove Tama, dove, viaggio Vado, 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 vado Ok, rimani Sì, che dobbiamo sfricciare la musica Gira Four, three, two Quiero provato, dobbiamo essere Vedi che mi stanno Vedi che mi stanno Vedi, vedi, vedi Quattro, giù Back Bap, 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 bap And back Bap, 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 bap Come Bap, 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 bap And how's it going, guys? Ok, take it down Ok, mi piace per se A bit, show me di super jump Ricordate che Questa non solo sarà qui su Facebook Ma la potrò anche su YouTube Ma su YouTube Voglio A Che mi iscrivete B, che consigliate C, che vi fate una bella Lei è una super jump E' una super jump Per le gambe Per le blute Per le braccia Ok Ma è più importante Scrivere le vostre domande E raccontare dei vostri successi Quelli che si è dato su Google Già Ok Occhio Vediamo Facciamo tutte le altre parti Ok, partendo con l'altro braccio No Seve 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 E Seve 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 E 1 2 4 3 2 4 3 2 3 3 2 3 Lado, lado, e ghiaccio. 4, 3, so lieveci. 2, 3, 2, 1, ma mi vensi quando mi sto avvanzando a spiego, ma come fazia? Sono più nella quadri tutta. Mi sto lieveciando. Ancora. Pura ragazzi. Shake it out. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Senta, four, three, master, master, take it out, four. Vai. Ancora, woohoo, woohoo. Yeah, yeah. La, va bene. Tutto da capo, l'altra parte, go. Tutti insieme, prima mattina. Viro, viro, active. Up, down. 5, 4, 3, 2, and speedo Apparattato, 4, down, and 1 Down, 5, 4, 3, 2, cheetah, 4, 3, 2, ski Double, 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 single speedo Double, 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 double 1 Bacca fuori Bacca Double Deve la musica Vengiamo qua Adesso come sta andando Ok, vai Scumperate la musica Giro Ancora 2 Otra volta, facciamo su di giro Gira 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 Otra volta Davo 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 Centro 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 Quattro da Vado Vado Quattro Vado Vado Con due volte Quello finiamo Alla sinistra E per oggi avremo finito la nostra strategia Quattro volte Vado Vado Gira Attura Quattro Gira 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 Và Gira H quo Vado Lato, 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 lato? Dopo, 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 dopo. Dado lato, 4, 3, 2, ancora. Andiamo Howevernino. Lato, 4, 3, 2, way! rester, 4, 1,2, 1,2, 3, 4, 5 Vai, vai, vai Oh, 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 oh Porca in volta Do it, do it, do it Vai, 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 vai Bento, bento Dobby blampi, dobby blampi 95 Va, va, va. Come on! Va, brava, brava. Ultima! Bravi ragazzi! Ok! È stata una bellissima lerebettazione. Spero che vi sia divertiti. E ricordate, rimanete sintonizzati sul mio YouTube, dove ci saranno sempre più allenamenti totalmente insieme, perché io voglio diventare vostra personal trainer, anche se non andate in palestra, con lui, con il mitico trampolino di Skullsport. Vi voglio bene! Passate una giornata splendida, ricca di movimento e di sorrisi. E vado avanti a allenare gli abdominali. Però ve lo faccio un altro allenamento. Ciao ragazzi! Vi voglio bene! Grazie a tutti!